ragazze mie buongiorno buongiorno oggi c'è una giornata calda sapete che io vi informo sempre del meteo oggi giornata calda alessia e suo marito oggi sono a un evento a un matrimonio nel pomeriggio quindi speriamo che è un po rinfreschi l'aria perché sapete i matrimoni si soffre dentro le chiese magari vestiti un pochino più pesanti stole cose varie speriamo che rinfreschi un poco comunque per fortuna per gli sposi perché ieri qui ha fatto una giornata brutta è piovuto quasi tutto il giorno no no è piovuto tipo fino alle 15 ragazze oggi mi spetta un lavoro in grato un lavoro faticoso cioè devo stirare devo stirare la tovaglia quella bellissima che ho messo sabato anche se devo dire non si è sporcata però insomma la sto lavando sempre sto lavando naturalmente anche la tovaglia che avevo messo sotto pure bianca che devo dire i commensali sono stati abbastanza bravi perché non l'hanno sporcata però è caduto un po di cacao dal tiramisù proprio poca roba però naturalmente il lavaggio e lavatrice era d'obbligo e ora mi tocca stirarla allora poi l'aggiornamento sulle rose ragazze guardate che differenza di qualità di rose guardate queste quanto sono belle e guardate queste invece quanto sono bruttine difatti ora queste qua ho cambiato il vaso le ho messe in questa specie di bottiglietta che ho preso all'ikea in modo che stanno magari i gambi stanno più più dritti perché nella nella bull stavano tutti tutti caduti poi questa zuppiera bellissima che di un servizio di piatti di mia madre antico bello antico degli anni 60 credo molto bello e allora era su questo mobile era sul mobile sul settimanile dell'ikea era messo la ma siccome dovevo sistemare queste due portacandele che mi hanno regalato alessi e salvo appunto dovevo trovare la postazione e l'ho messo qua quindi adesso questa la ripongo dentro la vetrina e la togliamo poi ragazze cucina fatta devo passare il mocio bagno fatto anche qua devo passare il mocio però prima del mocio mi voglio stirare appunto le cose anche perché il ferro sarà già ben caldo che l'ho ho messo la spina da un bel po e quindi questa è la tovaglia quindi devo stirare le tovaglie poi devo stirare due miei vestiti di zara che mi sono lavata sabato qua mio marito ha fatto un po di defile e ha lasciato l'anta aperta questa è l'altra tovaglia che ancora sta asciugando quella vi ripeto che ho messo sotto questa è una tovaglia di chea molto bella perché è un mistolino ed è costata mi pare sui 30 euro adesso non ricordo comunque raga sempre più orgogliosa dei miei due giardini il primo e il secondo questo non me l'aspettavo che mi risultasse così bello perché questo è un balcone appunto un po più dove ce lo stendi biancheria però vi devo dire che sono soddisfatta perché tra queste quattro piantine fiorite che ho messo tra i ficus che in questo periodo si risvegliano e cominciano a fare un sacco di foglioline nuove veramente veramente anche questo è diventato bellissimo anche questo qua allora mi metto subito a stirare quindi auguratemi buon lavoro vediamo che cosa succede guardate che c'è qua voi mi direte ma portala in tintoria e te la fai stirare no ragazze preferisco stirarla io a proposito di tintoria finalmente domani dovrei ritirare il tappeto vi ricordate che vi ho detto che è un bellissimo tappeto persiano che ho portato in tintoria me lo dovevano consegnare venerdì scorso se non che mio marito è andato e la proprietaria ha detto che non è rimasta contenta del risultato perché in questo tappeto ci sono delle frange laterali bianche la proprietaria appunto non era soddisfatta di come erano venute queste frange quindi l'ha voluto lavare di nuovo e me lo dovrebbero consegnare domani dico sempre dovrebbero perché magari poi mi rimandano di qualche giorno comunque non è una cosa vitale avere il tappeto anzi vi devo dire che in un certo senso è stato meglio così che non me l'hanno consegnato venerdì perché sabato appunto con gli ospiti ci avrebbero camminato sopra le frange vi ripeto sono bianche ragazzi allora mentre io guardo una puntata di cortesie per gli ospiti naturalmente sempre replica perché mi sto pulendo la zona giorno vi faccio vedere dove ho posizionato i due vasi che mi hanno regalato alessia e salvo allora questo più piccolino l'ho messo qua ho acceso la candela per vedere l'effetto è invece questa più grande l'ho messo qua sotto il cammino finto vicino la stufetta e mi sembra che non stiano male diciamo che mi piacciono molto così la zuppiera della mia mamma l'ho rimessa al suo posto perché credo che che stia meglio qua quindi ho messo la zuppiera e ho rimesso l'orchidea che mi è stata regalata anzi un attimo che la giro eccola così guardate che bella speriamo che mi duri vi faccio vedere ragazze che ho stirato tutte cose mamma mia è stato un lavoraccio soprattutto per la tovaglia quella la tovaglia quella la ecco è stata diciamo una delle prime cose che ho stirato vedete guardate che bella e poi volevo fare vedere pure questo ragazze guardate allora questo praticamente questo è un ricamo a mano fatto da mia madre guardate che bello che non è riuscita a finire allora quando io mi sono sposata lei mi ha ricamato un lenzuolo bellissimo il ricamo era blu e mentre questo è celeste ora io non so perché sembra che lei volesse fare e da questa cosa una federa dalla grandezza mi sembra una federa e io l'ho presa l'ho tirata fuori dal cassetto era già conservata naturalmente però l'ho lavata di nuovo ora lo stirata e la voglio utilizzare per alessia per la bambina se dio vuole e quando viene a casa mia come lenzuolino se si deve cambiare magari mettiamo questo sul letto sul divano quindi penso di lasciarlo a casa mia perché glielo volevo dare per utilizzarlo lei però penso che a casa mia ci voglia pure quindi questo me lo tengo poi ho stirato i vestiti i vestiti di zara mi rimane da fare l'altra tovaglia che siccome ho candeggiato praticamente è uscita diciamo non l'ho centrifugata perché l'ho candeggiata anche se vi devo dire che c'erano degli aloni gialli e mi sembra che un poco siano rimasti però pazienza insomma non ci posso fare niente magari sono non lo so perché non si sono tolta ragazze comunque stamattina me l'ho fatta vedere maia forse no qua c'è la mia bimba che si sta riposando vero amore sì vita mia ti stai riposando bimbo mio della mia vita vita mia sei tu vita mia ragazze tra qualche giorno la faccio tosare perché ha un pochino di nodi qua e poi tra l'altro a parte il fatto che le danno fastidio poi ora con il caldo e preferisco farla tosare in modo che insomma soffra un pochino meno allora finito bagno quindi mi stavo facendo vi dicevo appunto un po di straccio nella zona giorno no